Lo compri? Vuoi vedere? No, troppo caro. Io magari prendo questo. Che dici? L'ha scritto Bill Gates, l'uomo più ricco dell'universo. Ci sarà una buona idea dentro. Troppo caro. Mi stanno sul culo i libri, sono troppo cari. Ma è normale che la gente se ne compra uno all'anno e si compra Umberto Eco, che ne so. E poi mi stanno anche molto sul culo queste librerie. Con questi commessi bastardi che appena entri, capito, ti dicono desidera. Scusi, c'è un libro che sto cercando ma non riesco a trovarlo. Forse è meglio se... Dica, signora, dica pure. Grazie. C'è un libro che vorrei, me l'ha consigliata una collega a scuola, però mi dispiace non ricordo l'autore. Il titolo era La profezia dei Celestini. La profezia dei Celestini. Quella. Eh. Dunque, signora Temo, ci sia un piccolo problema di confusione sul titolo. Allora, lei si confonde fra La compagnia dei Celestini, Stefano Benni Feltrinelli, e La profezia di Celestino, James Redfield, Corbaccio? Corbaccio. Corbaccio. Ha ragione. Calma, scusi un attimo, me la prego. Deve sapere che il libro di James Redfield, La profezia di Celestino, è un libretto New Age del cazzo, e noi qui i libretti New Age del cazzo non li abbiamo. È vero, mai avuti. Ha sentito il collega? Invece, La compagnia dei Celestini è un best seller, e noi qui best seller non ce li abbiamo, abbiamo solo libri di qualità, è chiaro? Sì. Prego, grazie, signora, si accomodi, quella è la porta. Aria, vada. Qui dentro non metto più piede. Su, su. Ma no, signora, non faccio. Ci va? La sdecolatezza pura che non ha a che fare col genio, mi salta. Vabbè, se di colore, andiamo? Posso esserle utile? Ma vada al diavolo anche lei. Vi, ri, ri, ri! Oh, hai cazzo! Oh! Vabbè, qui vado, Lucia, mi aspetta. Sì. Ma fa culo. Mi sono commosso, non dovevi. Ne niente. Anch'io veramente avrei una cosa per te. Mannina, quello che volevo io, credo. Grazie. Da vero, figliolo. Ciao. Ciao. Aspetta. Salutami l'indianina. Ok.